Con QVAD trovi quello che ti serve senza perdere tempo. Un espositore, un'azienda, un olio particolare, una regione. O forse anche solo un bagno quando ti serve. QVAD ti porta dove vuoi, anche se sei in un posto, paese o lingua che non conosci. Inquadra il codice QR che trovi, apri il link QVAD, scegli la tua destinazione e voilà, non ti serve altro. E quando serve, serve eh! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!